Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. Traffico al momento regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Chiusura in A1 panoramica della tratta Baccheraia-Roncobilaccio le notti del 27-28 marzo in orario 21-6. Uscita Roncobilaccio chiusa provenendo da Firenze. Sul raccordo autostradale sia la Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla strada provinciale 11 per Fucecchio senso unico alternato tra i chilometri 4 e 500 e 8 e 500 località Cerreto Guidi fino al 6 aprile. A Firenze in via Generale della Chiesa in zona Rovezzano code per incidente all'incrocio con via Vittorio Emanuele Orlando. Altro incidente nel viale Guidoni in direzione centro città tra via della Marina e via Mugello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!